L'otorino-laringoiatria, come tutte le branche della medicina, è cambiata molto nel corso del tempo e il cambiamento oggi sta avvenendo a una velocità che non si era mai vista in passato. Questo a causa dei progressi tecnologici che interessano tutti gli aspetti della nostra vita e quindi anche la medicina. Per tale motivo ho fortemente voluto questo congresso, Novità in ORL, per fare il punto su quello che facciamo oggi, dove siamo e su quale sarà il domani. Sarà un congresso un po' diverso da quelli a cui si è abituati, forse sui generis. Si tratteranno argomenti diversi tra di loro, distinti in tre sessioni, una per ogni aspetto della nostra disciplina, comunque con il filo conduttore della novità e dell'innovazione. Avremo delle tavole rotonde dove discutere gli aspetti più controversi e l'angolo degli avvocati perché la medicina legale ormai è parte del nostro lavoro. Vi aspetto il 13 di maggio all'hotel Garden di Terni per il nostro nuovo incontro, Novità in ORL. Ci vediamo lì! Grazie!